Una convenzione che consentirà al Consorzio ASI di far svolgere presso il proprio ente lavoro di pubblica utilità è stata sottoscritta oggi a Lecce tra il presidente delegato del Tribunale di Lecce Roberto Tanisi ed il presidente dello stesso Consorzio ASI Angelo Tondo. In base a tale accordo l'ASI potrà utilizzare nei propri servizi persone per le quali il giudice abbia deciso la sospensione del processo con messa alla prova in lavori di pubblica utilità. Si tratta di una possibilità introdotta dalla legge per i reati meno gravi che si applica infatti se il reato è punito con la sola pena pecuniaria o con una pena detentiva non superiore ai 4 anni. La messa alla prova offre agli imputati e dagli indagati per i reati meno gravi la possibilità di evitare il processo sottoscrivendo in cambio un programma di trattamento che prevede l'adempimento di una serie di prescrizioni e lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità non retribuito. Il presidente Tondo ha espresso la propria soddisfazione per aver contribuito a realizzare lo spirito reeducativo della legge attraverso l'impiego di questi lavoratori che potranno agevolare in affiancamento al personale del consorzio il recupero e la salvaguardia ambientale delle zone industriali della provincia offrendo migliori servizi alle aziende e a tutto il tessuto produttivo salentino.